E' veramente un incanto questo piccolo paese, questo borgo della Val Malengo, Torre di Santa Maria. Guardare qua che bello, guardare il cielo di oggi. Poi un signore gentilmente mi ha indicato il percorso per andare nei prossimi giorni alle cascate. Devo dire che io oggi mi trovo a mio agio, guardare il campanile della chiesa, che bello. Poi guardare, occhio qui, occhio qui, non pigiare la testa, Aldo, Aldo il viandante, il girovago. E' quasi quasi tocco qua, ahia, ah mi devo ancora abbassare, questo, mi devo ancora abbassare, qui, 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 ahia, stavo per cadere. Che bello, che bello, che bello sono, io oggi, io oggi mi trovo qua. Ah, c'è anche l'illuminazione per terra qua, dove sbocco nella via dei cortili. Vediamo, vediamo, vediamo qui. Qui sono nella parte dietro della chiesa. Ecco qua, ecco qua, dove sto andando da solo. Da solo in questo borgo Torre di Santa Maria. Guardare qua, com'è bello, la visione ottica che si apre in questo momento davanti a me, al mio occhio visivo, dove in fondo vedo delle montagne, vedo tanti bei paesi. Là in alto è un paese denominato Primolo. Sto imparando tutti i nomi. Poi devo andare nei prossimi giorni alle cascate. Questa è la via dei cortili, ecco qua l'indicazione della bacheca, comune di Torre. Qui, qui mi trovo bene, 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 guardare dove sono adesso, guardare dove sono adesso. Via Cortile Vecchio, giusto. Qui c'è la chiesa e adesso vi faccio vedere l'ampia visione della Val Malenco, dove io mi sto incamminando in questo momento. Ecco qua il davanzale della chiesa, dove vedo una bella prospettiva di fronte a me. Ecco là di fronte la Val Malenco, con il rispettivo torrente fiume. E adesso vi saluto da questo cielo qua. Tra poco il bus, tra un quarto d'ora, tra 15 minuti il bus e ritorno e ritorno a Sondrio, poi purtroppo a Milano. Qui c'è un'aria bellissima. Aldo, un saluto dalla provincia di Sondrio. Sondrio.